ciao ronaldo mi hanno detto che a te piace molto la margherita la pizza margherita ma è vero preferisci la margherita o la quattro formaggi ah beh sì a me piace molto la pizza io preferisco molto la quattro formaggi ci faccio mettere sopra i gamberetti né la pizza è molto buona qui in italia e per fortuna ne mangio assai i tuoi compagni di squadra dicono che tu mangi fino a tre pizze ma è vero beh sì loro sono idiosi che io mangio tanto e tante pizze ne infatti molte volte mi dicono ma ronaldo ma come come fai dove te le metti tutte ste pizze come fai a mangiare tre pizze in una sola volta io beh io sono abituato così mi piacciono tanto le pizze che le mangio e così né e ti dirò di più una volta mangia i quattro pizze né e la partita dopo feci questo gol guarda qui né che ne pensi né